Buongiorno a tutti, grazie per essere qua. No, allora oggi ci sposiamo per, secondo me, sigillare la nostra storia con Cristo, visto che comunque dopo otto anni insieme ci sembrava corretto fare questo passo. Il primo incontro ci siamo conosciuti a un compleanno, sì, nella mia cugina, il mio testimone, e lì ci siamo incrociati e da lì dopo abbiamo iniziato a sentirci e sì, era scattato già qualcosa. Abbiamo deciso di compiere questo passo appunto perché io perlomeno ritengo che Mirko sia la persona con la quale voglio costruire il mio futuro e la mia famiglia. Anche per me vale lo stesso ovviamente. Siete d'accordo? Sì, siamo d'accordo. Sì, siamo d'accordo. Siete d'accordo! Siete d'accordo! Siete d'accordo! Grazie per la visione!